Fabrizio Lagaipa ha eletto recentemente presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, un incarico sicuramente importante, ma quali saranno le scelte che lei farà per il Consorzio? Il Consorzio rappresenta un'associazione privata, rappresenta la maggior parte, comunque alcuni fra i più importanti attori della filiera del turismo. Per cui noi parliamo di turismo, è un'associazione, un ente apartitico e che si occuperà appunto di fare delle azioni a favore del comparto turistico. Agrigento è una città, lo diciamo sempre, che ha tante potenzialità, diciamo sempre che l'agrigento dovrebbe vivere di turismo, la realtà è che l'agrigento già vive di turismo, o per meglio dire sopravvive di turismo. Noi parliamo tanto, per adesso si parla delle trivelle a mare, si parla di altre iniziative che niente hanno a che vedere il rigassificatore, insomma follie assolute. Noi il petrolio, il gas, le risorse naturali già ce le abbiamo, dobbiamo soltanto imparare a sfruttarle meglio e quindi lo sforzo sarà quello di fare sempre più rete, creare sempre più servizi, sempre più efficienti affinché il turismo possa svilupparsi. Il turismo è un qualcosa di molto complesso, noi ad Agrigento, mi dispiace dirlo, abbiamo molti presunti esperti di turismo che poi purtroppo lasciano il tempo che trovano. Speriamo di riuscire a fare un'azione seria nei confronti della gente, nei confronti delle aziende, nei confronti di chi di dovere, affinché questo settore possa veramente svilupparsi e dare da mangiare a tutto il territorio come dovrebbe essere, come giusto che sia. Qualche giorno fa si è presentato con notevole anticipo la Sagra 2016, lei erano presenti anche gli esponenti, il comitato componenti del distretto turistico Valle dei Templi, come valta questo fatto che con notevole anticipo viene presentata la Sagra anche alla presenza dell'assessore regionale di Calzi? Il segnale è indubbiamente positivo, forse diciamo che non è del tutto inedito perché andando a memoria mi sembra che qualcosa del genere anche in passato sia avvenuta, non esattamente così. Io ho avuto modo di leggere con attenzione il progetto di questa Sagra che è diverso da quelle precedenti, devo dire che il progetto in sé è apprezzabile, ci sono alcuni spunti di novità e chiaramente una cosa è il progetto, una cosa è la realizzazione. Io sono molto cauto, nel senso che vedremo poi alla fine che cosa succederà. Il progetto va valutato positivamente, sicuramente c'è una buona intenzione, però ripeto, purtroppo abbiamo imparato ad essere straordinariamente cauti negli entusiasmi. Grazie a tutti.